Non vorrei sembrare pessimista, ma sapete, forse siamo nei guai. Dobbiamo trovare una soluzione, e anche in fretta. Va bene, proviamo con le maniere forti. Non lo hai nemmeno scalfito? Ed ora che facciamo? Usiamo insieme i nostri poteri. Ha ragione. Bloom! Magic Wings! Magic Wings! Siete pronte? Riproviamo tutti insieme, adesso! Non si riesce a trovare un modo per uscire di qui.